VINCE LA DEL MONTE COMPOITALIA 2024, Nassil Susa, VINBER PERUCIA! VINCE LA DEL MONTE COMPOITALIA VINCE LA DEL MONTE COMPOITALIA VINCE LA DEL MONTE COMPOITALIA Un applauso, ovviamente, anche ai tifosi della Sassuza di Perugia. Un applauso, ovviamente, ai tifosi della Sassuza di Perugia, Gio Circi, viene consigliata la coccata della Del Monte, Coppa Italia 2024, da Giuseppe Montretti, Presidente Pippa, e Massimo Ricchi, Presidente della Lega Pondolo Serie A. Signore e signori, mi chiedo un grande applauso alla Sassuza, Vivi Carugia! E adesso, un momento, stiamo tutti aspettando, procediamo con la prevenzione del miglior giocatore. Consegna il premio MVP, Aleksandar Borecic, Presidente della Cepo. La giornata di giornalisti assegna il premio con il miglior giocatore, un giocatore della Sassuza, Vivi Perugia. Il numero 17, Aleksandar Borecic! La giornata di giornalisti, la 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 giornal E adesso scende la coppa accolta dal presidente Massimo Righi. 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 Grazie a tutti.